Oggi stiamo a Poggio Custone, il famoso paese per la produzione della porchetta. Io sono un operatore del posto e vi farò vedere come facciamo la famosa porchetta. Il procedimento per fare la porchetta è che prima bisogna scegliere il maiale accuratamente, cioè deve essere bello, grande, avere un grasso perfetto in tutte le sue situazioni. Poi viene distossato, tolto tutti gli ossi, rimane troppato all'osso della testa. Una volta adesso distossato, viene condito con i nostri prodotti, insomma, che si usano condimenti, aio fondamentalmente, pepe, rosmarino, sale e se uno vuole anche il peperoncino. C'è una linea da seguire per il condimento, perché a posto ci rende la diversità della porchetta nostra rispetto alle altre. Una volta, poi si ricomincia di nuovo a cucirla mano a mano in tutte le sue fasi. Una volta cucita, viene poi impalata e poi viene cucita per esterno, per la finale della porchetta. Una volta poi impalata, viene posizionata sul carrello e viene infornata nel forno. La cottura può barare dalle 6 alle 8, anche 9 ore, secondo la grandezza dei maiali.